Siamo contenti che per il secondo anno siamo riusciti a portare in Italia una tappa del campionato europeo di trail con i camion. È un campionato che in Europa è molto sentito, ormai sono quasi 30 anni che viene svolto, ma in Italia è solo la seconda volta e siamo riusciti a riportarlo qui in oleggio. La cosa strana è che manca l'Italia. Manca un team italiano, speriamo per il prossimo anno di riuscire a fare anche un team italiano. Per adesso i team purtroppo sono solo stranieri, c'è Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Croazia, ma manca un team italiano. Sono prove di abilità, vediamo dei mostri che stanno facendo cose impressionanti e incredibili, ma la cosa più sconvolgente è pensare come arrivano qua tutti questi mezzi, non certo sulla strada normale. Arrivano sulla strada normale, ma ovviamente c'è un camion che porta l'altro camion, quindi anche vederli arrivare è già uno spettacolo. Sono quattro categorie, per cui ci sono i prototipi e poi sono divisi in due, tre, quattro assi, che sono invece di serie. Non solo un momento di competizione, ma anche di presentazione di nuovi mezzi al servizio di chi lavora, soprattutto di chi lavora in grande. Assolutamente, è l'occasione opportuna in un momento in cui i camion si esibiscono per le missioni estreme di presentare quelli che sono i veicoli del gruppo Iveco dedicati alle missioni estreme. Alle nostre spalle abbiamo il nuovo Stralis X-Way, che è la versione dedicata esclusivamente agli impieghi gravosi della gamma Stralis. Quindi una macchina che nasce con dei particolari dispositivi dedicati sia alla sicurezza che al disimpegno nelle missioni meccaniche più complesse, è assolutamente studiata e lanciata su un mercato europeo, dove necessitava questa tipologia di veicolo. Quindi un veicolo che ha una missione praticamente impossibile, che è quella di coniugare il comfort dei grandi veicoli stradali e la robustezza dei veicoli da cantiere. E' una scelta precisa, perché al di là di tutto il patrimonio vero delle aziende che operano sul territorio sono gli autisti. Quindi uno sguardo ben preciso a quello che è l'ambiente di guida, l'ambiente di lavoro, la facilità di guida e soprattutto quello che chiamano il driver fondamentale, la sicurezza.